Salve ragazzi, allora grandissima partita del Milan, grandissima partita dei ragazzi, eccoli qua, la 7 volte campioni è tornata in azione Allora, ragazzi, allora, partita del Milan dei ragazzi addirittura da, io direi da 7 e mezzo, va? 7 magari, perché 7 e mezzo forse è un po' troppo Perché comunque, insomma, abbiamo fatto 3 a 1, ma non 3 a 0, però, grandissima, una partita ottima dei ragazzi, 3 a 1, veramente un risultato che dà morale, che dà differenza a reti ottime Perché ora siamo a 2 gol subiti e 3 fatti, quindi una media positiva, di uno solo c'è da dirlo, però, no, no, sbagliato, 4 gol fatti e 2 subiti, quindi è doppio, wow, meglio ancora Comunque, allora, dicevamo, allora, passiamo alle papriane e alle pagelle, vorrei spiegare qualche parola per i tifosi della Dinamo Zagabria Veramente siete un mucchio di animali, non so come altro definirvi, animali Cioè, da come avete fatto, siete entrati allo stadio, con quel saluto militare che mi pareva quello dei nazisti Cioè, ma si può sapere che cazzo, cioè, che cazzo vi chiedete di essere? Se qui siete, è una partita di calcio, l'uridi imbecilli Comunque, basi sul 3 abbiamo vinto Allora, voti Meignan, io direi 6 e mezzo Sul gol non potevi fare niente, hai fatto delle discrete parate, ma oggi, poco impegnato Calabria, voto 7, per come si è mosso stasera, veramente 7 è minimo, guarda Se hai fatto meglio, hai fatto meglio tu, ad esempio, di quanto abbia fatto l'esempio Serginio quando è entrato Però, bravo anche lui, diciamo, non metto voti perché non è stato tanto tempo Allora, voto 7, bravo Daviduccio Lo stesso vale per Calulo Ottomori, eccellenti, purtroppo sul gol non avete colpa perché è stata proprio una genialata del loro attaccante Non so chi è, comunque Teo voto 8 stasera, Teo devastante, Teuccio, così ti vogliamo Milan-Napoli ti vogliamo così, Teuccio Contro il Napoli occorrerà, contro il Napoli occorrerà un super Teo Occorrerà per poter, diciamo, superare un ostacolo come quello Allora, dicevamo, allora, The Kettle, no, che sto dicendo, quello l'ho inventato dopo Allora, Benasera e Tonali, entrambi voto 7 e mezzo, 7 e mezzo perché hanno fatto il centocampo Stasera si è fatto veramente sentire, con Pobega 7 per il gol Grande Tommy, grande Tommy Io l'ho sempre detto che sei molto forte Allora Allora, poi, allora, chi ci sta? Allora, poi, allora Leao stasera sei più per l'assist e perché ti alzi le makers per il 2-0 Perché ti sei procurato quel rigore, anche se per il resto non hai fatto molto Però, Giroud sei per il rigore, per il resto anche per te lo stesso Poi, se le makers stasera voto 8, sei stato il migliore della partita, Alexis Sì, sì, il migliore della partita Cioè, hai fatto un gol del 2-1, ti sei messo in mezzo a cercare i tuoi compagni, cioè Hai fatto di tutto stasera Cazzo, in Europa si vede la differenza fra te e Messias, in Europa, in Italia è il contrario Vabbè, dai, non importa, allora Poi, Brahim Diaz stasera la prima sufficienza da quando stai a questa stagione 6 e mezzo Bene, Brahim, anche tu per l'Europa è lo stesso Andiamo allora poi a chi è entrato Allora, Seginio Dest, De Ketelar e Krunic senza voto Non l'avete fatto granché, solo Tommy è giudicabile Pioli is on fire Voto, io direi, un bel 7 Grande Pioli, non tanto per la vittoria, ma come la squadra l'hai messa Bravo Stefano, grande Stefanuccio Allora, ma con lo scontro con Spalletti non sarà facile, caro mio Vediamo di tornare ai livelli del, insomma, ci siamo a livelli che stiamo Vediamo di tornare in campionato ai livelli che abbiamo fatto in Champions Allora, andiamo in alto Allora, Milan, diciamo, comunque molto più che discreto Una squadra che sta crescendo anche a livello mentale Una squadra che più si va avanti nelle partite, più imparano Questo è il bello loro Comunque, sono super soddisfatto della partita E per il resto, vabbè, non posso dire altro Scusate se mi lescio la barba, mamma mia, ricresciuta, vedo Vabbè, dovrò rilasarmi Comunque, allora Dicevamo, partita comunque assolutamente ottima Non posso dire niente ai giocatori miei Per quanto riguarda, invece Allora, il pubblico, sempre i tifosi Siamo sempre noi, i rossoneri Aspetta, qua volevo dimettere Noi rossoneri, noi Milano, veramente incredibile Grandissimo Milan stasera La tifoseria si è fatta altrettanto sentire Va bene ragazzi, il video è piuttosto breve Perché adesso ho delle cose da fare Però non devo ammettere niente male ragazzi Stasera veramente niente male Bravi Grazie a tutti